Abbiamo fatto una partita discreta, siamo stati colpiti da questo errore, ci abbiamo un po' tagliato le gambe, però per l'ennesima volta la squadra ha provato a vincere, ha lottato credo, ha messo tutto quello che poteva e per l'ennesima volta, non per l'ennesima, diciamo che in questo periodo le cose non sono girate nel modo giusto, però i ragazzi ci stanno mettendo l'anima e la volontà per fare più punti possibili, poi alla fine tireremo insomma, è un momento particolare quindi preferisco non dire altro, grazie.